Sto asservando queste piante le cui foglie sono scosse dal vento e che riflettono una luce particolare del sole, già l'importanza del vento, il vento come forza, come capacità di generare energia, come capacità nel vento di destino di guidarci dove noi non vorremmo andare o forse proprio là dove noi vogliamo andare senza sapere come, che grande e meravigliosa cosa anche la natura, già, e noi facciamo parte di essa.